Sul depuratore del Carda, se in attese di alternative sostenibili a Gavardo e Montichiari, spuntano nuove proposte e strade ipoteticamente percollibili, riconvertendo aree dismesse che non mancano su quel territorio, come uno stabile a Raffa di Puegnago dell'ex mollificio di San Felice, 75 metri quadrati di cui quasi 30.000 coperti. Il sito è stato operativo fino al 2004 per la produzione di molle a balestra e barre stabilizzatrici, ma da allora è in completo abbandono e forte stato di degrado. Sappiamo che in questo momento ATO deve provvedere a definire una nuova lista di possibili localizzazioni di nuovi depuratori. Questo in seguito appunto alla mozione che si è approvata in Consiglio Provinciale, io ci tengo a ribadire finalmente, finalmente perché la politica ha preso una decisione. Sulla scorta proprio di questa novità, noi ci siamo fatti promotori dell'individuazione di alcuni siti che non vogliono essere attenzione i siti definitivi per realizzare dei depuratori. Non abbiamo le competenze chiaramente per poter decidere se un sito è migliore di un altro. Però quello che vogliamo fare è aprire il dibattito, chiedere che la politica comincia a interrogarsi e a proporre faccia le proprie proposte per localizzare questi benedetti depuratori. Abbiamo proposto un sito sul comune di Desenzano, abbiamo proposto un sito nel comune di San Felice, sicuramente ci sono decine di altri siti industriali di smesse e abbandonati o cave che possono essere recuperati per realizzare questi depuratori. Noi chiediamo che i sindaci si mettano la mano sul cuore e ci assumino le proprie responsabilità. Devono fare questa lista, se i sindaci non sono in grado di farlo, che lo faccia almeno ATO oppure il gestore unico Acqua e Bresciane.